È bello essere un pilota. Avrà girato il mondo intero. Ma una volta che hai visto un aeroporto, li hai visti tutti. Ma non avrà visto soltanto gli aeroporti. Non è fantastico sorvolare Parigi, Londra, New York e vedere queste città dall'alto? Deve essere davvero magico il suo lavoro. Soprattutto a Natale, quando le città sono piene di luci. Il Natale è... sopravvalutato. Serve solo a farci spendere tutti i soldi prima dell'inizio dell'anno. Poi per i mesi successivi siamo costretti a lavorare per pagare i debiti delle carte che abbiamo usato, per comprare l'orologio giusto o la collana perfetta. Io non vedo l'ora di vedere Parigi addobbata per Natale. Non sarà mai romantica come Stromstad, neanche con milioni di lampadine attaccate alla Torre Eiffel. Si incontrarono sotto la Torre Eiffel e riconfermarono il loro amore. Dopo le promesse di matrimonio e le campane, passarono davanti all'Arco di Triunfo. Di fronte alla Cattedrale di Notre-Dame, si promisero di nuovo che mai e poi mai si sarebbero separati. Lei è solo una donna ingenua che vive in un sogno natalizio non realistico. Grazie.